Nel caso specifico dei farmaci per l'epatite sicuramente questi farmaci rappresenteranno una spesa molto consistente per le regioni che hanno già dei vincoli di spesa molto stringenti. Si tratta comunque di farmaci assolutamente importanti che devono essere somministrati e dati ai pazienti e le regioni, almeno la regione Veneto, sta valutando delle azioni di risparmio in altri settori per cercare di liberare le risorse e rendere disponibili questi farmaci ai pazienti. Certamente ci sono anche richieste che provengono da più parti di poter avere dei finanziamenti aggiuntivi e credo che se queste verranno esaudite queste richieste potranno dare un bel margine di respiro alle regioni se ci saranno quindi dei finanziamenti aggiuntivi rispetto a quelli che sono di adesso. Adesso in realtà noi regioni non abbiamo ricevuto finanziamenti a parte quindi dobbiamo farci carico di comprare questi farmaci con le risorse che abbiamo.